Anni 14 non 400 sarebbe plausibile fossi capace di comportamenti diversi da questi sebbene sarebbe possibile grazie a me. Vivi alla luce del giorno, sei privo di stile, c'è chi non conosce il fondamentale principio di questa credenza spettrale. Tempo e limiti sono per chi non ha fretta nei vincoli. Ora ascoltami, devi fare l'impossibile. Mostra i canini, si capelli a posto, su vestiti in ordine, cambiamo l'iride. Dobbiamo risolvere l'aspetto scenico, magari cominciamo con un volo. Tempo e limiti sono per chi non ha fretta nei vincoli. Ora ascoltami, devi fare l'impossibile. Perché sono qui, sono accanto a te. Se è incredibile, sei incredibile. Tempo e limiti sono per chi non ha fretta nei vincoli. Ora ascoltami, devi fare l'impossibile.